Zanichelli, osservare e capire le scienze C2, la nutrizione Allora, dall'esofago, dalla bocca allo stomaco, la digestione del cibo Allora, la faringe Grazie alla selicazione e alla masticazione il cibo si trasforma in bolo alimentare che arriva alla faringe attraverso la decludizione Quindi una volta trasformato in bolo viene inghiottito con la decludizione e arriva alla faringe Il bolo alimentare attraverso la faringe che è un organo comune fra l'apparato digerente e l'apparato respiratorio Poi, probabilmente l'apparato respiratorio dalla faringe passa alla ralinge Nell'apparato digerente dalla faringe si passa all'esofago Quindi l'esofago è il prolungamento del canale alimentare E quindi il bolo arriva nell'esofago, lo attraversa e arriva all'esofago Andiamo a vedere che cos'è la decludizione La decludizione è un meccanismo automatico che agisce nel momento in cui la lingua spinge il bolo in fondo alla bocca Per essere inghiottito A questo punto l'epiglottere situata alla base della faringe si abbassa E tappa l'ingresso della laringe Impedendo al cibo di prendere la strada dell'apparato respiratorio In questo modo il cibo trova l'ingresso della laringe chiuso E trova la sola strada aperta, quella dell'esofago Per cui il bolo va a finire nell'esofago Da qui si dì il detto che quando si pancia non si parla Perché se si parla praticamente l'epiglottere non è in grado di fare la sua funzione Perché deve far passare contemporaneamente cibo e aria E quindi possono succedere dei problemi come quando si dice che il cibo ci è andato per traverso Perché non stavamo facendo quello che dovevamo fare Qui vediamo l'epiglottide che è alzata e normalmente permette all'aria di andare nell'apparato respiratorio Nel momento della decodizione del bolo l'epiglottide si abbassa Vedete l'epiglottide passa da qui che è alzata Fa questo movimento Si abbassa Chiude la laringe E il bolo prende la strada dell'esofago E una volta che il bolo è entrato nell'esofago L'epiglottide si rialza e l'aria continua a rifluire verso i polmoni L'esofago L'esofago è la continuazione del canale digerente dopo la faringe Dove il cibo viene spinto con la decodizione È un organo tubolare di circa 25 cm Che sbocca nello stomaco È formato da tre strati Due muscolari e uno sotto mucoso rivestito di mucosa Che il movimento di queste fasce muscolari facilita il passaggio del bolo attraverso l'esofago L'abbiamo visto questo movimento si chiama peristalti Quindi abbiamo visto che il bolo è entrato Che l'epiglottide chiude la laringe Quindi il bolo passa nell'esofago I movimenti peristaltici dell'esofago Contrazione e rilassamento Vedete questa fase di contrazione Questa è la fase di rilassamento Il bolo scende e arriva nell'esofago E arriva nello stomaco Qui vediamo ancora meglio i movimenti peristaltici Che spingono il bolo verso il basso Lo stomaco Attraverso il cardias Il bolo arriva nello stomaco Un organo a forma di sacco Che termina con la valvola del pirolo Che lo separa dal duoteno Lo stomaco svolge diverse funzioni Innanzitutto contiene il bolo Poi lo rimescola Perché le fasce muscolari dello stomaco Anche qui svolgono la sua funzione di Contrarsi e rilassarsi Quindi fanno il rimescolamento del cibo all'interno dello stomaco Lo sterilizza perché Che contiene l'acido cloridico Che è in grado di uccidere la maggior parte dei batteri E svolge le funzioni digerenti Cioè inizia, praticamente demolisce il cibo Inizia a demolire il cibo Nei suoi costituenti fondamentali Vediamo qui l'esofago Che è un sacco Inizia, lo stomaco è un sacco Inizia col cardias La parte più alta si prende fondo Poi abbiamo un artrio Il corpo Il corpo dello stomaco Poi abbiamo il pirolo che lo passa nel duoteno Che mette in comunicazione lo stomaco con l'intestino E nell'intestino inizia col duoteno La parete dello stomaco è molto robusta E costituita da diversi strati di tessuto Lo strato più interno Lo strato esterno Come abbiamo detto È fatto da tessuto muscolare liscio Che ne facilita il movimento e la contrazione lenta Con il muscolamento del cibo Lo strato più interno è caratterizzato dalla mucosa Questa mucosa ha il compito di proteggere lo stomaco Perché nello stomaco avviene la digestione delle proteine E lo stomaco è formato da proteine Poi nella mucosa abbiamo diversi tipi Numerosi tipi di cellule chiandolari Che producono delle sostanze Che vanno a costituire il succo gastrico Che è fondamentale per la digestione del cibo I succhi grassi sono prodotti dalle chiandole Presenti nella parete dello stomaco Che si ripiegano in pieghe gastriche Il succo grassi è costituito prevalentemente da acqua Acido cloritico E enzimi che agiscono su proteine e lipidi Qui vediamo un particolare tipo di azione Di un enzima che è la pepsina La pepsina agisce sulle proteine In ambiente acido Infatti l'acido cloritico Fa sì che l'ambiente dello stomaco sia fortemente acido E la proteina viene rotta in frammenti di amminoacido In frammenti di proteina In questo caso vediamo anelli Di strutture formate da tre amminoacido Ogni tanto viene rilasciato qualche amminoacido isolato Ma la produzione degli amminoacido avverrà in seguito nell'intestino La mucosa grassica ha il ruolo di proteggere le pareti dello stomaco Altrimenti verrebbero anch'esse digerite Il bollo rimane nello stomaco per circa quattro ore Gli succhi vengono digeriti rapidamente Mentre le proteine e i grassi necessitano di un processo più lento Questo significa che la pasta viene digerita in un tempo molto più breve Rispetto a una bistecca Alla fine il bollo viene trasformato in chimo E attraverso il pilolo è pronto per entrare nell'intestino tenue Quindi vediamo l'esofago Il cibo entra nell'esofago E come bolo Ed esce come chimo Poi abbiamo la parete castrica È formata da buco Dalle cellule della mucosa castrica E da zone in cui vengono da cellule Che praticamente producono il succo castrico Lo stomaco deriva dalla parola greca stomacos Che però significa Si riferiva più brevemente all'esofago Le malattie dell'esofago e dello stomaco Le malattie che traessano l'esofago e lo stomaco sono Il refusso classico-sorfageo Causato dalla riferia di succhi gastici dallo stomaco Per il malfunzionamento del cadrias Che è stato danneggiato Vediamo qui come lo sfinterenne è chiuso Impedisce ai liquidi presenti nello stomaco e i succhi gastici Di rifluire verso l'esofago Quando funziona male Questa valvola rimane aperta Una parte dei succhi gastici Rifluisce nell'esofago Causando delle infiammazioni La gastrite ed ulcera sono malattie che possono essere associate all'elicobacter piroli Che associato alle cattive abitudini alimentari Porta lo stomaco a produrre una eccessiva quantità di acido cloridico e corrodia da mucosa gastrica Usando la gastrite fino ad arrivare a perforare la parete dello stomaco In questo caso si allucena Qui vediamo una vignetta che fa vedere L'elicobacter piroli che se la spassa E i farmaci che vengono utilizzati per combattere questo batterio Questa è un'immagine a femminoscopio elettronico Dell'elicobacter piroli Quindi il bollo alimentare attraversa la faringe Passa con la deglutizione dell'esofago Arriva nello stomaco un organo a forma di sacco Che raccoglie il cibo e compie parte della digestione Fine Fine